Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Da marzo 2016 i cittadini di 153 comuni italiani potranno fare richiesta del nuovo documento d'identità. Dopo una sperimentazione durata addirittura 18 anni l'Agenzia per l'Italia Digitale ha dato il via libera alla distribuzione della CIE, ovvero la carta d'identità elettronica. Si tratta di una tessera di plastica dalle dimensioni simili a quelle della patente dotata di un chip NFC nascosto che permetterà ai cittadini di velocizzare alcune operazioni burocratiche come per esempio il riconoscimento negli aeroporti o negli uffici pubblici. All'interno della CIE saranno presenti anche l'impronta digitale, il codice fiscale, gli estremi dell'atto di nascita, il consenso, le donazioni degli organi, il proprio domicilio e esattamente come nel talloncino cartaceo anche la foto e la firma del titolare. Al momento della richiesta il cittadino dovrà necessariamente fornire all'amministrazione pubblica un numero di telefono o un indirizzo di posta elettronica nel quale potrà essere raggiunto in caso di necessità. Attualmente i comuni italiani sperimentatori sono 153 ed in provincia di Pavia solo vigevano a farne parte. Tra le grandi città anche Milano, Roma e Napoli, tutte le altre località, comprese quindi Pavia, Voghera e gli altri comuni della nostra provincia dovranno attendere almeno fino al 2018. Chiunque voglia richiedere la carta di identità elettronica potrà recarsi allo sportello dell'ufficio anagrafe comunale senza portare la fototessera. L'immagine sarà infatti realizzata con una fotocamera digitale collegata al computer dell'ufficio ed attendere poi sei giorni lavorativi prima che il documento sia pronto. Porta la tua azienda in questo video. JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot.japtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.